Non si costruisce il futuro se non si ama il presente. Nata dalla passione di 100 soci fondatori, la fondazione Costruiamo il Futuro ha coinvolto in questi 10 anni oltre 200 imprenditori, professionisti, artigiani e commercianti. Non si costruisce il futuro se non si ama la cultura e l'educazione. Incontri con testimoni del mondo dell'economia, della politica, della fede, dell'imprenditoria e mostre per raccontare il positivo che c'è nella realtà, dall'arte allo sport, dalla storia alla letteratura. 58 incontri, 16 mostre, 25.000 persone coinvolte. Non si costruisce il futuro se non si ama la formazione. Per questo sosteniamo tutte quelle esperienze che aiutano le persone a crescere, umanamente e professionalmente. 12 scuole di formazione per giovani, under 35 appassionati al bene comune. Non si costruisce il futuro se non si ama chi è capace di amare. Per questo aiutiamo le opere intelligenti che sanno fare del bene sul territorio. Così è nato nel 2003 il premio Costruiamo il futuro. Attraverso contributi in denaro e forniture di materiale, sostiene le associazioni di volontariato e non profit della regione Lombardia. 1.600 enti del terzo settore conosciuti, 414 iniziative di solidarietà sostenute, quasi un milione di euro donati. Non si costruisce il futuro se non si ama la ricerca. Senza conoscenza non c'è azione che vada a buon fine. 4 ricerche scientifiche, 25 convegni realizzati in questi 10 anni. 10 anni insieme amando il presente. Continuiamo a costruire il futuro. No, I can't keep bottled up inside. And all I wanna know is are you ready for the ride? What have I been waiting for? Oh, I can run, but I can't hide the feelings that I know. So, no, I can't get out of the way. And all I can get out of the way.